In arrivo 31,7 miliardi di euro per gli investimenti nelle ferrovie in Italia. È quanto prevede l'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero per le Infrastrutture, la Mobilità Sostenibile e Rete Ferroviaria Italiana. L'aggiornamento recepisce l'evoluzione della programmazione e dei finanziamenti sia statali che europei, come quelli legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risorse consentiranno l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria per garantire maggiore efficienza e sicurezza e una migliore quantità e qualità dei servizi. L'obiettivo è anche quello di colmare il gap infrastrutturale nord-sud, puntando sempre di più sull'alta velocità per passeggeri e merci. Nel dettaglio sono previsti 2,6 miliardi di euro per contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico. 3,5 miliardi sono finalizzati all'ammodernamento tecnologico e 2,3 miliardi al trasporto pubblico locale. A nord si potenzieranno le tratte ferroviarie Milano-Venezia, Verona-Brennero e Liguria-Alpi, mentre al sud si estenderà all'alta velocità, con il completamento della direttrice Napoli-Bari, l'avanzamento ulteriore della Palermo-Catania-Messina e i primi lotti delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia.